dove andiamo oggi tesoro? al centro benessere mamma papà posso venire con voi? no evi tu giocherai qui al parco giochi va bene è così noioso qui non mi piace oh vado a vedere cosa c'è nell'altra via questo centro benessere è così bello grazie evi 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 non è qui che cosa potrebbe esserle successo bello è così interessante qui ah ah oi aia ma dove sono finita ehi c'è qualcuno qui? ehi c'è qualcuno qui? oh ho tanta paura oh ho tanta paura non posso uscire da qui mamma papà 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 oh ken potrebbe essere da qualche parte qui in giro non ti preoccupare barbie la troveremo evi oh guarda il pozzo ken potrebbe essere caduta laggiù evi evi sei qui? si papà aiutami oh evi la scala è rotta aspetta un attimo stai calma tuo polino mio tra poco ti tiriamo fuori di lì ho una corda evi tieni finalmente papà finalmente papà sono pronta tirami su ti sto tirando fuori evi tieniti bene oh mi sono così spaventata non ti preoccupare evi ti tengo io ora evi piccola mia ti avevo detto di rimanere al parco giochi scusa mamma ho capito adesso la prossima volta sarò una brava bambina